Ho deciso di mettere la mia faccia in questa campagna elettorale perché dopo aver maturato un po' di esperienza nei movimenti giovanili e in una commissione pari opportunità ho deciso che era arrivato il momento di dare una risposta effettiva a quella che è la frase standard della popolazione. In questo paese non cambia mai niente, non c'è mai niente di nuovo e soprattutto critiche nei confronti di noi giovani. Noi giovani in realtà abbiamo tanta voglia di fare e la mia candidatura, la mia voglia di metterci la faccia è proprio la dimostrazione di questa volontà di fare qualcosa di utile per il paese perché cambi qualcosa. Io ho visto crescere questa città insieme a me perché negli ultimi vent'anni di amministrazione la città è effettivamente cresciuta in base alle esigenze di una generazione, la mia, che ha vissuto in pieno questi ultimi periodi. È stata un'ottima amministrazione, a noi giovani ha dato tante opportunità e l'apporto che può dare Mauro così come lo ha descritto all'interno del suo programma è sicuramente la ciliegina sulla torta all'interno di tutto un percorso che è stato costruito negli anni passati. Di conseguenza ho deciso di sposare appieno, l'ho detto più volte, il programma di Mauro Giliberti cercando di dare anche un valore aggiunto se mi verrà data l'occasione al suo programma. Non fosse altro che per la mia appartenenza ad una lista specifica all'interno della coalizione, che è una lista che guarda molto al futuro, che è basata sulla creazione di valori aggiunti. Punti di forza, questa città è cresciuta tantissimo, ha maturato un appeal turistico senza pari. Lecce è diventata, al pari di qualunque altra grossa città italiana, una meta molto appetibile da parte dei turisti di tutta Europa, se non anche del mondo. Lecce non ha nulla da invidiare alle grosse città europee, motivo per cui Lecce deve necessariamente crescere ancora, perché in questi anni di ottima amministrazione uscente è stata creata una buona base, una solida base, ora bisogna andare a strutturare i servizi e tutto ciò che ruota intorno a questo punto di partenza che è la nostra città, che deve essere sicuramente resa anche più sicura per essere ulteriormente resa vivibile non solo per i cittadini ma anche da parte dei turisti stessi. Per questo motivo all'interno del mio programma elettorale ho previsto un rafforzamento di quello che è l'idea della sicurezza della città inserita all'interno del programma del nostro candidato. Tant'è che per rendere più sicura la città e più vivibile ho pensato di inserire all'interno del mio programma elettorale l'idea di comitati di quartiere che potessero rendere più partecipe la popolazione della città stessa alla vita della città stessa. Andare sicuramente a supporto di quella che è l'idea di questo manager per la sicurezza urbana di cui tanto è stato parlato, di cui tanto si è discusso in questa campagna elettorale. Questo sicuramente renderà la nostra città una città più coesa, una città più partecipata e molto più attiva, quindi anche partecipante a tutta quella che è la realtà non solo turistica quindi, ma tutta la realtà di Lecce che appunto deve avere un'unica ambizione, quella di crescere.